ben tornati in questo nuovo video di minecraft ita minecraft ita ragazzi volevo disinstallate me la disinstallate ok ecco qua disinstallate non è un blog dicendo che sul telefono di dark shark non è più possibile fare video diretti però i vlog li posso fare no possiamo pure fare io lo possiamo fare lo possiamo fare in verità se lui mi fa un video sul mio telefonino io gioco possiamo farlo anche se stanno le mie dita che sono piccoline va bene però oppure ci organizziamo e facciamo sul suo telefonino minecraft ita ma hai incominciato e mi sto appassionando troppo adesso io non posso fare niente però era solo questo video era breve perchè dovevamo fare solo questo annuncio breve fammi vedere un secondo è breve vabbè vabbè l'altro è durato al massimo 10 minuti eh l'altro è durato tantissimo proprio per il caso ma mi posso fare una porta? si ah ragazzi continuo un altro pochettino non trascuriamo questo episodio di minecraft ita in compagnia di dark shark non era il tetto di diamond eh? non era il tetto di diamond no se l'elimina ok eh ragazzi vorrei giocare io però a dark shark non è perchè ma lo caro sono ho 61 di sabbia mi faccio una casa in sabbia da oggi no adesso adesso giocherò un po' io perchè tu mi odi vabbè metti la crafting table vabbè fammi vedere la sabbia non vola ne so non c'è più gravità ma muori no no muori 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 tappati 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 ma non ti sei tappare ma perchè io ero più troppo con questo coso davanti alleluia ragazzi se l'ho sentito era colpa mia ha fatto perchè lui non sapeva non c'era vedo lo devo vedere la giorni comunque io sto sul pavimento altrimenti ok se vedreste come sto adesso se ci sia una persona sottorna comunque vabbè non so potremmo fare anche un video di Yu-Gi-Oh eh si dopo aver mangiato però dià 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 allora pubblichiamo ragazzi pubblicheremo 3 video la mia intro la mia intro vabbè non proprio oggi no oggi oggi problemi mi faccio male eh no se l'ho mai crastita oggi e la sua intro non so già non so la intro lui non me la vuole per vedere la mia intro è perchè dovrebbe essere una sorpresa ragazzi mi vedono anche voi nei bambini adesso sto come un bambino di 5 anni mamma quindi beh fatti in culo ahahah mi sono detto sto come un ragno un ragno un ragno qua un po' non qua di più del canale vabbè scusate ragazzi vabbè i problemi di copyright non ci stanno comunque io vi faccio un'altra crafting table perchè non comunque ragazzi ehm ci sono cose in cui faremo tutto sul suo telefonino in poche parole di minecraft poi dopo minecraft gli speciali di minecraft tipo allora la mia serie che registremo noi due non si vedrà tanto bene però registremo noi due la mia serie sarà le allora le migliori costruzioni che saranno le migliori costruzioni la la migliori costruzioni che sarebbe che io dovrei io dovrei voi giù nei commenti mi chiedete quella cosa una costruzione semplice all'inizio poi dopo faremo quelle più complicate voi mi chiederete una costruzione io la farò poi ha un staccato poi se volete le costruzioni creative ho il mio mondo creatività dove se volete se volete voi io potrò posso costruire tantissimo visto che so volare ho tutti i materiali non chiedete troppo anche se volare ovviamente su minecraft no nella realtà se tu provi a volare puoi fare soltanto una bruzzetta bello tutto manda tutto manda tutto manda vabbè arriva la meschina la meschina la mosca che mi va in bocca aia ahahahahah ma se una merda ma se una merda adesso sto come un ninja già ninja wow ma mi pare un po' mea no questo video finisce qui no 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 non finirà non finisce qui perché ci sono pure io ma dovrei andare anche a mangiare eh aspetta finirà con me basta allora prima leviamo il puntatore perché io con questo puntatore schifoso non mi trovo no 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 vabbè 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 comunque ragazzi ho la porta ho la porta